Un utilizzo del bosco e soprattutto ad una cura del bosco. Un pericolo per l'ambiente è che i boschi vengano abbandonati e che si perda il prado pascolo rispetto al bosco. Inoltre il bosco deve essere tagliato ogni tot anni, proprio per il suo mantenimento, e deve essere mantenuto anche e curato il sottobosco. Questo per evitare anche fenomeni di sesto idrogeologico a valle. La cura viene portata avanti con le filiere, con l'aggregazione tra agricoltori e forestali e imprese che poi utilizzeranno questo legno. Esatto, la filiera è importantissima. Noi nelle marche puntiamo molto nelle filiere perché aiutano immediatamente il primo anello, che è quello dell'azienda agricola e che in filiera ha già la possibilità di sapere che reddito avrà. E poi perché il lavoro che viene fatto, in questo caso del taglio boschivo, è comunque finalizzato alla produzione di pellet oppure alla produzione di materiale che verrà bruciato negli impianti a biomasse e quindi il sistema si chiude in maniera virtuosa.